buonasera a tutti e ben ritrovati nella nobile contrada dell'oca ovviamente alla conoscenza dei dieci capitani che prenderanno parte soprattutto alla conoscenza delle stalle e dei barbareschi delle contrade sono con il capitano stefano bernardini che appunto ci accompagnerà verso verso la stalla innanzitutto buonasera capitano buonasera allora capitano un palio di luglio in cui l'ho è arrivata seconda sì ma non siamo le olimpiadi quindi è purga quindi purga purga ecco come ha vissuto questo post palio stava un po di amarezza allora amarezza sicuramente infatti sono andato al mare per non assolutamente parlare di palio nei giorni dopo contento però in parte diciamo così che abbia vinto carlo perché rafforza un ragionamento con questo fantina abbiamo fatto dall'altro se ricordiamo l'anno scorso ha vinto da noi contento abbia vinto la contrada dell'onda e diciamo sì poi dopo la domenica all'estrazione siamo venuti a sorte quindi diciamo sì che l'amarezza è stata lenita e si è pensato da domenica sette in poi a preparare il palio d'agosto perché naturalmente essendoci noi ci proviamo non è che ci sia passata la voglia un altro palio senza la rivale quindi comunque c'è una certa serenità diciamo in casa bernardini e in casa in casa oca inoltre è stato riportato non lo vedevamo dal 2018 giovanni azioni detto si tia qui in fonte branda ma questo io l'ho sempre detto anche nelle interviste precedenti forse era più la gente di fuori e pensava che giovanni non tornasse nel loa io sono sempre stato tranquillo sereno con giovanni abbiamo un ottimo rapporto e come ho sempre detto quando fosse capitata l'occasione per riportarlo in incontrata giovanni giovanni è venuto bisogna fare conti con il fantino che è sicuramente il numero uno e che ha tante contrade e che lo vogliano non a tutti tocca quello quello è chiaro era anche partito davanti a quegli altri non è arrivato come ovviamente lei sperava però sicuramente è un rapporto che ormai si è consolidato definitivamente se ce ne fosse stato bisogno ma solo per gli esterni il rapporto non era consolidato io sono con giovanni lo diceva discorso a prova generale l'ho conosciuto negli anni a cui ho fatto il mangino 2002 era veramente un ragazzo per arrivare nemmeno maggiorenne quando ho cominciato a fare il capitano nel 2016 l'ho trovato già maturo e devo dire che poi la vera esplosione dal 2019 in poi giovanni ha fatto un salto di qualità sia mentale psicofisica di tranquillità che sicuramente lo porta a essere senza nessun dubbio il numero uno anche perché non si vincano a caso dieci pali e nemmeno cinque pali di fila assolutamente no ci fermiamo qui un attimino davanti alla società trieste questo è il punto nevraggio della contrada del loca di qua ovviamente qui nel rione di santa caterina ecco capitano un ragionamento ho fatto un po con tutti gli altri un ragionamento che ha tirato fuori più che altro la maggior parte del popolo no stato un lotto con sei cavalli esordenti sei cavalli nuovi i big che avevano già vinto il palio non c'erano alla fine però ha vinto il cavallo che aveva corso più pali di tutti tabacco sì ma questo credo siano discorsi che abbiamo già fatto rifatto anche in passato nella scelta dei capitani bisogna sempre pensare a cosa i capitani si trovano di fronte il 29 di giugno o il 13 mattina quando i veterinari dopo la tratta ti presentano i cavalli io ero conscio il 29 mattina prima che i veterinari escludessero i cavalli che hanno escluso noi la sera prima quando siamo usciti da fare il incontro con veterinari e con i nostri veterinari delle contrade parlando gli altri capitani eravamo già arrivata una scelta di 89 cavalli ecco il 29 mattina dopo che i veterinari ci hanno consegnato i cavalli su scegliere da 89 siamo passati a 4 quindi voi capite bene che poi diventa molto difficile poter scegliere poi dal di fuori si può di tanto si può di tutto eccetera però nessuno di noi ha l'intenzione di poter mettere in continuazione cavalli nuovi di solito diciamo sì dovrebbe essere un 70 e 30 di percentuale 80 e 20 eccetera eccetera però quando le scelte sono queste poi il resto diventano chiacchiere io capisco che il palio è bello come nel calcio perché tutti sono commissari tecnici allenatori poi però quando si va a scegliere ci sono delle prerogative su cui non si può derogare la scelta non è venuta sicuramente a cuore aperto cioè nel senso nemmeno noi eravamo contenti lei l'aveva detto che avrebbe voluto vedere tutti meglio tutti meglio l'avrei voluti vedere sicuramente poi però andiamo a vedere di questi meglio chi c'era e chi non c'era perché alla fine poi alla fine c'era rimasta andebole basta di quelli più papabili il resto non c'era quindi non so nemmeno di che si parla cioè è una polemica sicuramente molto molto sterile a me a volte mi sorprende l'ho sempre detto ex fantini ex dirigenti facciano questi tipi di discorsi non essendo dentro le situazioni anche perché l'hanno vissuto e quindi sanno come delle volte non so nemmeno strategie paliesche sono le situazioni cause di forza maggiore sì so cause forza maggiore e comunque nonostante i 6 cavalli nuovi qualcosa di buono fra i 6 cavalli nuovi si è visto e quindi sa è sicuramente servito per poterli se arriveranno in che condizioni arriveranno poterli inserire nei 10 per il palio d'agosto chiaramente ecco c'è un un'altra questione chiaramente i fantini carlos hanno detto brigante giovanni ha detto fitti a li conosciamo le l'ha detto più volte si è avvicinato elias manucci vedremo se potrà vestire per la prima volta il giubbetto dell'oca a questo giro secondo lei ci sarà spazio per un esordiente nell'oca o ancora lo esclude ma io la politica nostra è sempre stata quella di cercare di portare sui nostri cavalli dei fantini esperti poi visto il palio oggi come si sviluppa mai dire mai ma come principio generale il rimane quello che ho che ho già detto fantini e fantini esperti elias manucci si è avvicinato molto c'è uno di quei fantini e noi attenzioniamo non solo da quest'anno il gas manucci dall'oca era già attenzionato eh all'inizio del mio mandato quindi niente niente di nuovo poi si sa come funziona dipende anche molto dalle prestazioni che i fantini fanno eh devo dire che dopo il covid ho trovato un elias cambiato maturato che potrebbe essere una di quelle alternative a quei due personaggi dicevi prima che potrebbero tranquillamente montare chiaramente chiaramente nel frattempo proseguiamo e scendiamo e eh andiamo verso la stalla verso la stalla perché quest'anno vogliamo far vedere appunto le stalle delle contradi abbiamo già eh vissuto parecchi aneddoti nelle contradi in cui siamo andati vediamo se eh li eh vedremo e li capteremo anche qui già un aneddoto interessante che questa è uno degli ultimi pali se non l'ultimo per questa per questa stalla proprio la stalla fisica dico sì l'anno scorso la contrada ha acquistato un nuovo locale una stalla dove dovrebbe dico dovrebbe che poi eh la stalla viene messa a disposizione dalla contrada poi il capitano deciderà quale questa quella di sempre quella di sempre e quindi vedremo però una stalla sicuramente più larga soprattutto più alta e dove sicuramente è più facile destreggiarsi all'interno certo come sempre quando lasci una un luogo che ha fatto la storia di questa contrada dispiace sempre però quando si va a migliorare credo che poi faccia parte del processo naturale di modernizzazione di tutte le strutture poi lei un palio ce l'ha vinto in questa stalla ce l'ho vinto molto volentieri sì 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 ma io ce l'ho vinti ce l'abbiamo visti vincere tanti non solo da capitano non solo da capitano ma sono goduti in tanti lavori i lavori in cui quanti ne ha visti vincere 13 13 insomma un bottino un buon bottino sì sì un buon bottino sì ecco eh il barbaresco è bruno giubilei che dopo andremo a trovare ci accompagnerà nella stalla ancora non c'è quindi lo lo attenderemo poi i suoi mangini che conosciamo ne abbiamo parlato ovviamente a luglio sono Antonio Cinotti Maurizio Meli Michele Rosi e Roberto Tolu sono questi quattro ormai da un bel po' di anni si ferma una sola vittoria il cammino di Stefano Bernardini o preferirebbe? tutti chi fa questo mestiere ambisce sempre a cercare di migliorarsi andare vicino non conta però anche questo tipo di argomento va un po' sviscerato perché è vero che è una grossa soddisfazione personale però poi la soddisfazione almeno per me è stata quella dopo dieci anni di aver regalato al popolo eh una una gioia così grande perché poi ti rendi conto nel passare dei giorni eh quanto la gente eh ha goduto di un palio soprattutto dopo tutto quello noi avevamo trascorso oltre al fatto che nel mezzo c'era stata la pandemia e poi ci siamo resi conto dell'esplosione di questo rione di frequentazione di persone ma soprattutto di giovani che prima del covid erano ragazzi e ancora non erano nemmeno maggiorenni e ce le ritroviamo con un'età differente e le vedie si sono veramente veramente divertite come io ho sempre portato esempio il mio primo palio che ho vissuto da 19 anni nel 1977 è stata veramente gioia pura ecco sì 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 un palio ovviamente anche quello lì storico ecco lei è quasi decano fra pochino vice decano vice decano esatto questo potrebbe essere il suo ultimo palio da capitano sì perché io scado il 17 agosto di quest'anno ecco ha pensato a una continuità nella sbatesta o a un successore no vediamo se qualcuno dei miei mangini può raccogliere la 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 il passaggio delle nuove segne la mia eredità poi comunque ci confronteremo con la sede direttiva che poi da noi è quella che porterà in assemblea il nome del nuovo capitano faremo tutte le valutazioni del caso con la libertà assoluta della contrada di poter di poter scegliere un mio eventuale successore chiaramente chiaramente allora adesso siamo giunti in chiusura prima di entrare nella stalla insieme al barbaresco bruno giubilei nel frattempo ringrazio il capitano per la disponibilità ci lasciamo con un palio come sempre questa volta ha scelto il 2 luglio 2007 prima venivamo fuori dal palio del 99 con però dopo tantissimi anni nel 2005 la vittoria della nostra avversaria quindi era altissimo il desiderio di rifarci e poi è il primo palio di giovanni azzeni vinto nel lo a cui io spero di poter aggiungerne qualcun altro lo scopo è quello che però come sempre nel lo a questi fantini vedi andrea de corte se vedi trecciolino e ultimamente giovanni hanno sempre segnato la storia del lo a poi però ricordiamoci che degli ultimi 5 3 8 degli ultimi 12 pali vinti dal lo a sono stati vinti in quattro fantini ma in trenno hanno vinti 11 quindi o che sia lunghi il diciamo sì la consecuzione dei pali vinti del lo a da giovanni oppure carlo sanno non facciamo io immagino per il suo popolo vada bene vada bene vada bene lo stessi c'è neanche un altro po vince neanche un altro chiaramente chiaramente ed è stata anche quella la prima vittoria di fedora sauro il fedora altro cavallo importante importante grande capitano era rodolfo montigiani il poro rodolfo e vinse veramente un palio stupendo per come vinse un poi il momento di attesa per chi aveva vinto non aveva vinto però devo dire che fu l'inizio poi di un percorso vittorioso di giovanni abbiamo visto le qualità che poi ha saputo esprimere questo fantino con la sua maturazione e tutto chiaramente il palio del famoso non sappiamo non sappiamo di franco masoni è la nostra voce quindi andiamo a rivedere quelle immagini capitano grazie mille grazie a voi disponibilità ci vediamo in piazza ad agosto grazie grazie buona giornata per rivederci entrata biancata la mossa è valida un'uscita molto forte della lupa dell'onda oca all'esterno il montone la tartuca il drago il drago che ha preso il corridoio basso si porta è caduto il drago prima posizione dell'oca secondo è il montone terzo il nicchio la lupa la tartuca il bruco l'istrice è caduto il montone è caduto il montone ed è l'oca l'oca che vola letteralmente sulla pista seconda posizione è il nicchio terzo lo scosso quarto il bruco la cimenta la tartuca sempre l'oca con un grande margine di vantaggio sta galoppando sulla pista arriva al secondo casato posizioni invariate l'oca il nicchio è caduta la lupa eccoci all'ultimo san martino con l'oca prima posizione il nicchio è caduto diverse contrade ed ecco il bruco in terza posizione e l'oca l'oca c'è un cavallo però che sta andando verso il casato un arrivo fortissimo però l'oca non sappiamo non sappiamo forse è l'oca o il nicchio un arrivo veramente da fotografia eccoci qua siamo arrivati nella stalla abbiamo trovato bruno giubilei barbaresco dell'oca da quanti anni ormai dal 2016 2016 quindi insomma è vissuto tante l'anno scorso la pandemia ci stavano le squalifiche sì che è andata così nel senso che gli anni sono passati però si riducano perché c'è stata la pandemia la pandemia mangiava tanto si mangiava tanto ecco senti due anni squalifica ah hai fatto anche la squalifica quindi te sei rientrato hai vinto il palio sì come è stato bellissimo l'ommaggio ci avrei messo la firma se si rientrava dopo quattro anni stai quattro anni firme e vinceva come si è vinto diceva diciamo che è stato il massimo dei posso dirlo della libidine ecco senti quando è nata per te la passione per i cavalli ma da ragazzi da ragazzo come tanti amici si andava a vedere cavalli a destra a sinistra poi abbiamo cominciato a montare un po a cavallo e poi ora è diciamo una venticinquinà d'anni che c'ho il cavallo e monta a cavallo regolarmente quindi monti anche per te allora vediamo un attimino qui la stalla dell'oca questa è una stalla come si può vedere anche dalle mura molto molto antica no ecco e vedo già qui una bellissima cornice con un po di spennacchiere queste sono tutte vittoriose no credo solamente questa qui perché c'è la fotografia di vittorio e sembra questa questa spennacchiera qui e queste sono quelle che non usate più questa qui si è usata e poi queste qui no non si sono mai quindi quando ci sono io non è capitato e comunque hai usato sì 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 ecco che cavalli hai avuto in in questa stalla allora io ho avuto renalzus e sorighittu poi porto alabe e poi c'è stato fa pensare unidos e zio frac e zio frac quindi anche due vittoriosi uno l'hai vinto te l'altro invece porto alabe non ha vinto con te quindi comunque nei viste di ogni tra l'altro ci raccontava prima il capitano che questo può essere uno degli ultimi pali di questa di questa stalla a poi ovviamente la scelta sta il capitano nel usare questa o quella che si state per fare nuova per regola questo è l'ultimo l'ultimo anno poi sarà il capitano a decidere cosa vuole fare del suo futuro questo non lo so ecco quindi ti è un po nostalgica però questa questa cosa c'è il fatto di dover lasciare una stalla storia ha vinto comunque tanti pali però quando ormai se la con gli anni è giusto e ci siano nuovi nuove persone ti sostituiscano più giovani e con carica e anche se a me la carica non mi manca non ti manca ecco poi sei affiancato da due persone comunque giovani come andrea cicogna e alberto monaci che sono i tuoi due vice barbareschi ecco quindi come è nata l'intesa se si è anche voluto negli anni insomma dal 2016 lo sta albertino e l'avventura è cominciata insieme nel 2016 con noi c'era pg il cilerai e poi lui ha smesso e poi è subentrato nel 2018 il cicogna ok andrea e come vi trovate assieme molto bene siamo molto affiatati anche extra diciamo si fa spesso a fare qualche aperitivo si vaccina fuori cioè ci si vuole bene veramente spero che continui anche dopo la nostra avventura di barbareschi ecco allora intanto dietro di te vedo già un po qui di festiere briglie ricerche quella vittoriosa allora quella vittoriosa è questa ok questa proprio uguale all'anno scorso la spennacchiera è quella che è stata fatta l'anno scorso in memoria del bobo infatti c'è anche la targa qui dietro il grande enrico brandani detto il bobo del bobo si barbaresco storico veramente un uomo di cavalli storico per cena sì quindi questa è quella che si tiene di riserva però a luglio questo ha fatto due o tre prove questa quella ha scelto il fantino poi siamo andati su quest'altra questi poi sono i nostri le vostre coppoline qual è la tua questa questa è la mia e questa è quella coccarda e si mette la mattina al cavallo danno l'assegnazione del cavallo ok quindi queste sono tutte tutte le copole senti questa spennacchiera è enorme sì questa è un motivo particolare no 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 è stata fatta così da un ragazzo tra l'altro dell'onda e sinceramente mi è piaciuta esce un po fuori dai nostri canoni però ogni tanto bisogna anche cambiare c'è sempre c'è un aneddoto dietro alla spennacchiera della vittoria di zio frac mi dicevi e rischiava di saltare in un primo momento che cosa la spennacchiera di cina si 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 esatto allora riusciva a scavizzarsi da solo da solo sicché a un certo punto che al giorno del panno si è fatto tutto una treccia e gli abbiamo legato la treccia qui alla testiera del cavallo vi è anche servita perché poi a un certo punto mi trovai con le redini in mano e si scavezzò e capisci che niente e poi le ha rimisi se la rilevò poi a un certo punto ci si era accorsa tre volte una volta l'aveva di traverso e disse al fantino vada pensaci anche te ma li si tirò quanto si poteva all'ultimo buco quasi e allora niente si fece questa questa cosa vidi si fece questa treccia alla criniera e poi legata qui alla testiera del cavallo molto bene poi qui c'è qui c'è la borsa che si porta utilizzate sempre certo poi vedo un po di disegni 16 agosto 1931 2 luglio 1928 queste sono vittorie vecchie queste sono vittorie vecchie che so qui non so da quanti anni penso da quando sta inaugurata la stalla però credo e le vogliano togliere per mettere nel museo perché qui si sciupano ecco quindi sì che penso di tornare dentro al museo senti questa è una stalla molto 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 verace no come struttura con questi bellissimi archi tipici di siena com'è vivere quattro giorni qui dentro allora noi innanzitutto si dorme a turno qui dentro col cavallo si porta una brandina e si dorme qui accanto a questo armadietto e si sta tutta 24 ore su 24 sul col cavallo non viene mai lasciato a me sinceramente mi piace dormire perché dormire per modo di dire perché poi non c'è sempre o l'orecchio ritorno come senti un movimento vai subito a vedere cosa fa senti e mangia qualcosa o bevi oppure per dissi sdraia per terra che sei sempre vigile e a guardare insomma quello che succede dentro al box ecco qui chiaramente c'è clan città d'arma che il mondo della contrada dell'ora santa caterina che ovviamente la santa la chiamano i ragazzi i ragazzi dell'ora qui altri disegni e poi vedo un po di foto che è una foto di zio frac ecco qui qui ci sono tutti i cavalli e cavalli dal 1948 ad oggi quelli hanno vinto nel nello a ecco non ci sono quindi le foto dei barbareschi solo avano è una scelta non lo so io sono arrivato era così ma anche quando c'era il bubo era tradizionale tradizionale ecco qui in che momento ecco fra qui non lo so dopo dopo la prova perché mi sembra che non sia subito dopo il palio mi da questa impressione che ci può stare ci può stare poi era parecchio più nervoso certo poi ci sono altre altre fuori ci sono qui c'è brandano baillardo e rimini ok quindi sono vittorie ovviamente prima degli anni degli anni 2000 questa è fedora saura quindi questo è il primo palio degli anni 2000 e 2007 il primo palio anche di domani a senetto di piazzi si ha vinto il primo palio con noi fedora saura capitano rodolfo montigiani si palio che ha scelto peraltro anche il capitano di lanciare prima di venire qui nella stalla e poi qui ci sono altre voce vittorio giovi e guarnero guarnero questi sono tutti i cavalli poi li vedo un po messina sì questi sono tutte le le cose noi l'altarini diciamo che abbiamo trovato vi si cerca sempre di mantenerli perché il bubo era tosto tutto come è tutta a posto la stalla mi raccomando invece il sant'antonio che abbiamo acquistato in un negozio d'antiquariato qualche anno fa insieme altri barbareschi insomma di cinque o sei persone abbiamo acquistato questo sant'antonio che è del periodo dell'ottocento ecco quindi una figura come quella del bubo che ora ovviamente come tutti sappiamo non c'è più era decisivo anche quando aveva ovviamente smesso con con me poi ci aveva un ottimo rapporto sì che quando veniva qui nell'occasione della colazione della venizione della stalla controllava tutto faceva che mi diceva quello un fu la lampadina non funziona quello è storto e l'altro un po arrugginito poi mancano le foto e poi ho fatto fare ha lasciato aggiungere appositamente 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 per il bubo perché era l'altro sto nemmeno immagino potessi poter vedere il box fammi vedere fammi vedere il box grazie bruno che ci stai accompagnando in questa stalla la strada vince mississippi a questo io scusa questo è guest mississippi nel 2000 nel 2011 questo è il nostro box anche qui c'è un un arco importante devo dire molto molto bello un box alla fine non è enorme rispetto ad altri che abbiamo abbiamo già visto abbastanza piccolino sì anzi prima il box non era qui ma era qui nel mezzo era proprio nel mezzo nel mezzo qui c'era tutta la struttura in legno si chi era abbastanza diciamo street ancora più stretto ancora più stretto e poi si vede il bobo hanno deciso di c'era questo ambiente di fare questo box infatti qui si vede che c'è la muratura ovviamente ovviamente nuova però comunque ha vinto diversi pali questa stalla sì questo ha vinto diversi pali e tutti allora è stata fatta questa nella metà del 70 ci ha vinto rimini poi baiardo e coso come si ristrutturando tutte le case della contrada ok senti qui invece che angolo abbiamo vedo anche un po di belle bottiglie si sono pregiate queste sono sono tutte bottiglie naturalmente non si bevano sono qui ce le portano si mettano qui però quando c'è bottiglietta del vinsanto e la volentieri si beve poi c'è whisky insomma tutta roba non l'avete stappato nemmeno per la vittoria no si è stappato altre cose altre cose poi vedo la preghiera del cavallo al suo padrone ci sono tante tante belle cose questo si può aprire o c'è roba segreto non si può aprire noi rispettiamo qui non si può niente visto che siamo nello stretto si viene sfruttato tutto noi infatti rispettiamo perché come tutti sapete non è che possiamo far vedere possiamo far vedere tutto come è giusto che sia perché poi le stalle devono mantenere i loro segreti cerchiamo ovviamente di far vedere quello che si può e nuovamente ci tengo a ringraziare le contrade che ci hanno permesso di fare questa cosa per farvi vedere un pochettino com'è fatta la stalla mi sposto qui che c'è una coccarda fatta poi a spennacchiera sì però non il ricordo del palio di luglio del 2011 gli anatroccoli e giovani si vede queste sono state le anatroccoli hanno dopo la vittoria del 2011 hanno regalato questo è il disegno del palio del 2011 alla stalla e questo lo tenete qui è qui quello che è qui rimane qui nel senso non hai cambiato niente rispetto a questa ma penso nessuno cambi niente è difficile io ecco io non tocco anzi aggiungo ma non tolgo niente sotto suggerimento altrui no anche perché così rimane così senti poi è chiaro che nella stalla non c'è solo il barbaresco i suoi vice c'è anche il veterinario e maniscalco che sono molto importanti perché nel ruolo cioè nel ruolo del barbaresco sai prima era diverso quando c'era il bobo oppure quelli prima del bobo e ora il discorso del barbaresco un po' più ridimensionato perché c'è questi ci sono questi professionisti che sono il duccio il veterinario e lele il maniscalco e sono due persone eccezionali fanno la differenza fanno la differenza tanto ecco e te bruno in che cosa sei bravo ma io che so che sono bravo io che ti devo dire l'importante è di paura di cavalli avere una certa esperienza avere anche un po di carattere perché ci vuole anche un po di carattere perché in certe situazioni a volte se non c'è il carattere puoi sbagliare si può sbagliare oppure che ti devo dire bisogna ripribli avere ci cento occhi quindi perché poi sei responsabile del cavallo perché poi se succede qualche cosa ce li fa il barbaresco quindi deve andare tutto liscio come come l'olio ecco sì che poi mi reputo normale nel senso non è che ci vuole tante cose basta avere occhio conoscere un pochino i cavalli perché bene o male e ha detto detto che mastico cavalli 30 anni quindi una certa ma piaccia con il nostro amico giorgio rugi che è stato un grande maestro e mandato l'opportunità di vivere il cavallo e anche lui ha sempre pintato per farmi fare il barbaresco giorgio ruge un'altra grande figura del loca che anche lui non c'è più da un po di tempo il cui figlio peraltro è vice barbaresco della lupa quindi anche qui ci sono tantissimi bellissimi collegamenti un uomo ovviamente di cavalli un uomo del loca che ovviamente chi ha un che è un po più grande ma anche molti giovani che ho voluto dire perché è stato lui che proprio mi ha insegnato il cavallo lui che ti ha insegnato il mestiere quindi questo era bellissimo molto bravo queste sono le foto ovviamente che ti ha fatto mettere il buomo e poi lì c'è un ferro sì questo è questo ferro qui mi è stato curioso è un ferro ora ti spiego un attimino allora questo qui mi è stato regalato da antonio montereggi un mesetto e mezzo due prima che andasse via conosciuta siano come i nochi esatto e io quando me lo dette l'appoggiai qui sopra non sapevo nemmeno se attaccarlo oppure no poi quando è morto sono ritornato qui nella stalla lo spolveravo l'ho girato e ho visto una data 16 8 2023 mi si è ghiacciato il sangue e niente poi si è vinto il paleo e lui già sapeva io non lo so però fatto sta che è una scritta premo questa data 2 mesi prima che andasse via e ora l'ho attaccato lì l'ho fatto vedere a tante persone che li volevano bene e tanti hanno si sono messi a piangere immagino anche molto emozionante sì 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 qualcuno ha detto ma impossibile ragazzi io l'ho trovato ve lo faccio vedere insomma niente ha portato bene rimane qui come come ovviamente ricordo ecco quindi questo è una delle tante cose belle che si possono trovare trovare nelle stalle tanti bellissimi luoghi senti per uno c'è un cavallo del passato magari che avreste voluto avere te nella tua stalla qui qui sì anche una cosa nell'ho anche una cosa che sicuramente che ti posso dire violenta da claudia 30 quindi anche recente da claudia perché violenta da claudia così così perché mi è sempre piaciuta e siccome non l'ho mai avuta e sarebbe stato bella per la linee la stalla anche perché noi il bombolone a quando siamo qui non si è mai avuto so fra che si ma nel lotto era un era un primo aveva vinto un paleo però non era un primo un primo cavallo aveva su problemi però però ha vinto in un modo stupendo ecco quindi violenta e scelto un cavallino si si è avanti a scegliere allora bruno senti siamo arrivati in chiusura ti ringrazio chiaramente per avermi fatto vedere la stalla ti chiedo di prendere la sua coppola di metterla e così vedremo ovviamente al lavoro all'opera il 16 agosto ma parte ovviamente tutto nei giorni nei giorni precedenti bruno giubilei con la sua coppola simbolo ovviamente incontrastato senti quando porti il cavallo voi non andate con il popolo dietro no 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 non si va solamente con il ragazzo e porta la borsa e poi vengono con noi ci accompagnano tre o quattro persone quindi non senti l'emozione del popolo dietro che canta la vivi più no perché non ci siamo ci siamo abituati capito quindi non ci fai nemmeno caso però è bello quando si esce la piazza col popolo dietro e ti da veramente la carica nei giorni di palio invece lo fai vedere al popolo ai bambini lo fa carezzare sì 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 quando siamo su in piazzetta dopo aver docciato il cavallo e mentre si gira per asciugarlo ci si ferma dai bambini a farlo carezzare insomma a far piacere giusto e tutti si godano il cavallo ecco voi perché chiaramente diciamolo voi siete in salita in questo momento e quindi il cavallo lo fate andare su al santuario di Santa Caterina quando si scende da Santa Caterina dopo la prova si va direttamente in piazzetta e lì poi si doccia al cavallo e si fa tutto dove si tiene anche la benedizione la benedizione del cavallo senti questo potrebbe essere anche il tuo ultimo palio potrebbe essere anche il mio ultimo palio certamente quindi come vive questa cosa ti piacerebbe no no tranquillo 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 la mia soddisfazione a Barbaresco l'ho già avuta già essere Barbaresco immagine grazie sì di essere Barbaresco è arrivato in un momento che non me l'aspettavo sinceramente nemmeno però è arrivata e è stata una sfida con me stesso perché non sapevo se ero in grado di poterlo fare invece poi ben da sé nel senso poi un po' d'esperienza ce l'ho però è giusto che sia così quando arriva il momento tutto inizia e tutto finisce e tutto finisce chiaramente Bruno ti ringrazio infinitamente per avermi fatto questo giro in questa stalla ci vediamo tra pochi giorni in piazza del campo grazie a te buon proseguimento grazie a tutti ciao grazie a tutti